E' passato un anno dai fatti gravi successi all'Osteria del Coro, vi ricordate? Fatti che hanno segnato in modo indelebile i nostri protagonisti, già perché nessuno sembra disposto a perdonare i torti subiti. Sarà anche questa una notte di pioggia, un'altra notte di pioggia, sarà una lunga e strana notte dove amori e rancori si incontreranno o si scontreranno in cui, ahimè, verrà consumato un altro terribile delitto. Un'indagine da seguire e un interrogatorio da condurre. Sarai capace di scoprire chi è l'assassino? Questa è la nostra cena con De Netto, notte di pioggia due, un anno dopo. Grazie.